Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Al grande fratello Beatrice Luzzi è una delle protagoniste assolute di questa edizione, ma non soltanto per cose positive. Anzi, sta vivendo situazioni poco felici con Giuseppe Garibaldi. Infatti lui ha anche raccontato dettagli privati di ciò che succedeva sotto le coperte rivelando che non si trattava solo di baci. Ora è stato costretto ad intervenire addirittura il figlio dell'attrice perché è arrabbiato per qualcosa che si è verificato nelle ultime ore. Tutto è nato quando al grande fratello Beatrice Luzzi è stata attaccata da un'altra concorrente. Ovviamente anche il figlio Valentino lo ha saputo ed è intervenuto su X, prendendo le parti della dorata mamma e contestando quindi la coinquilina del genitore. In particolare, il giovane ha commentato un post di GF Vip News e a rispondere è stato il figlio più grande di lei. Vediamo cosa è successo sui social network. Ad aver preso di mira la concorrente del grande fratello, Beatrice Luzzi, è stata Anita Olivieri. Io non ho mai conosciuto una persona come lei, mai nella vita e spero di non conoscerne mai più una. Tu pensa ad avere una madre così. Tu scappi. Follia è una persona fuori di testa. A quel punto Valentino ha deciso di scrivere un post per difendere la madre. Parole che in pochi secondi hanno subito fatto il giro della rete sull'ex Twitter. Il ragazzo ha quindi scritto, in riferimento a quanto detto da Anita, mia mamma è la migliore e si vede. Follia. Un gesto davvero amorevole fatto da lui, che è stato apprezzato dai telespettatori. Ricordiamo che i due figli dell'attrice le fecero una sorpresa diverse settimane fa, entrando nella casa. Poi lei si era messa a piangere alcuni giorni fa, in occasione del quindicesimo compleanno di Valentino, che non ha potuto festeggiare. Vedremo se nelle prossime puntate i figli le daranno ulteriore carica, con qualche sorpresa simile oppure con qualche lettera che possa tirare sul morale di Beatrice Luzzi, che si è abbassato moltissimo a causa della storia con Garibaldi.